Chi furono gli etruschi? Una profonda analisi dell'origine etrusca. Nell'antichità, si diffonde una teoria intrigante sull'origine degli etruschi, narrata con maestria dallo storico Erodoto nelle sue storie, scritte nel V secolo a ci parlando dei Lidi, un popolo stanziato nell'ovest della penisola anatolica. Erodoto racconta che, in un momento critico della loro storia, il loro re prese una decisione drastica. Ordinò che metà della popolazione si avventurasse per mare verso l'ovest del Mediterraneo per sfuggire alla carestia che li aveva colpiti. Erodoto scrive, il re divise tutti i Lidi in due gruppi, uno destinato a rimanere, mentre l'altro doveva emigrare dal paese. Il re stesso guidò il gruppo che rimase, mentre suo figlio, di nome Tirreno, divenne il capo di quello. Coloro che avevano il compito di lasciare il paese raggiunsero smirne. Costruirono navi e, caricando tutti gli oggetti utili, si avventurarono per mare in cerca di nuove terre e risorse. Dopo aver attraversato numerosi popoli, giunsero alla terra degli Umbri, dove fondarono città che ancora oggi esistono. Da quel momento, il capo della spedizione, Tirreno, diede il nome Tirreni ai Lidi, e lo stesso nome fu dato al territorio dell'Etruria da Erodoto. Tuttavia, un altro storico greco contemporaneo di Erodoto, Ellanico di Mitilene, identificò gli Etruschi come Tirreni ma sostenne che la loro origine fosse diversa. Secondo Ellanico, gli Etruschi non erano Lidi ma Pelasgi, la misteriosa popolazione che occupò la Grecia prima dell'arrivo degli Ellenici, ossia i Greci di lingua greca. Secondo alcune leggende, i Pelasgi si stabilirono in varie zone del Mediterraneo, tra cui l'isola di Lemno nel Maregeo e la regione di Trode nell'Anatolia nord-occidentale. Un'altra variante di questa teoria suggerisce che Tirreno e Tarconte venissero dalla Missia, sempre nell'Anatolia occidentale. Tuttavia, è importante notare che queste leggende collocano l'epoca della spedizione di Tirreno molto prima dell'VIII secolo a C. L'epoca in cui i primi reperti archeologici confermano in modo inequivocabile l'esistenza degli Etruschi. Secondo alcune versioni, Tirreno e Tarconte sembrano aver partecipato alla guerra in Missia, forse in fuga dopo la caduta di una città o come alleati dei Troiani. In questo modo, la loro presenza viene situata negli ultimi giorni dell'Età del Bronzo. Durante un periodo caratterizzato da distruzioni su larga scala e movimenti di popolazioni nell'area greca e del vicino Oriente. Avvenuti intorno al 1200 a questare questi sconvolgimenti furono causati dai cosiddetti popoli del mare, gruppi di guerrieri o pirati che navigavano nel Mediterraneo orientale. È possibile che una di queste popolazioni abbia dato origine alla leggenda della spedizione di Tirreno. Anche se non è certo se il termine Tirreni si riferisca effettivamente ai popoli del mare, nei documenti egiziani. Un'altra teoria affascinante per risolvere l'enigma delle origini degli Etruschi riguarda la loro lingua. L'Etrusco, emerso tra il IX e il III secolo a C, non ha alcuna parentela con le lingue italiche, che discendono dall'indo-europeo. Tuttavia, sembra somigliare a una lingua non greca parlata sull'isola di Lemno nel VI secolo a C, come confermato da un'iscrizione dell'epoca. Questa scoperta suggerisce che in un passato remoto, i popoli di Lemno e almeno una parte dell'Anatolia occidentale parlavano una lingua comune. Nonostante non si sia riscontrata alcuna connessione tra Lemno e la cultura etrusca, questo potrebbe essere spiegato dal fatto che la cultura etrusca si sviluppò solo dopo che questi popoli si stabilirono nella penisola italica. Altri studiosi sostengono che la lingua etrusca abbia origini ancora più antiche, risalenti al di là del 3500 a C, quando le prime comunità neolitiche giunsero in Etruria, portando con sé un'economia basata sull'agricoltura, simile a quella sviluppatasi nel Vicino Oriente. Questi gruppi migratori si spostarono dall'Anatolia lungo le coste del Mediterraneo, e la datazione del loro insediamento potrebbe avvalorare l'ipotesi alternativa che gli etruschi fossero presenti in Etruria sin dai tempi più antichi. L'idea dell'origine italica degli etruschi è antica quanto quella dell'immigrazione dall'Anatolia. Già negli secolo a C, lo storico greco Dionigi Licarnasso sosteneva che gli etruschi fossero autoctoni, cioè nativi del territorio in cui vivevano da sempre, e che la loro cultura si fosse sviluppata direttamente in Etruria. Per sostenere questa tesi, Dionigi argomentava che non vi erano affinità culturali, religiose o linguistiche tra gli etruschi, i Lidi e i Pelasgi. Egli scriveva, coloro che affermano che i Tirreni non sono emigrati da nessun altro luogo sembrano più vicini alla verità, poiché in tutti gli aspetti della loro cultura, del loro linguaggio e del loro stile di vita non mostrano affinità con nessun altro popolo. Gli studiosi del mondo etrusco non sono mai riusciti a risolvere definitivamente il dibattito tra queste due teorie. Oggi, la spiegazione prevalente combina elementi delle due interpretazioni tradizionali. Nel 1984, l'archeologo ed etruscologo Massimo Pallottino sottolineava che la domanda non doveva essere tanto da dove provenissero gli etruschi, ma piuttosto come si fosse sviluppata la loro cultura. La tesi di Pallottino coincideva con l'idea di Dionigi di Alicarnasso, sostenendo che la civiltà etrusca si fosse effettivamente sviluppata in Etruria. Tuttavia, è innegabile che la cultura originale degli etruschi si sia arricchita attraverso influenze provenienti dal Mediterraneo orientale e dalle colonie greche del sud dell'Italia. Questo processo avviene nel corso di un periodo molto lungo. Gli studiosi hanno identificato diverse fasi nell'evoluzione della popolazione insediata in Etruria. Dopo un lungo periodo di Neolitico, intorno al 1700, a C inizio la cultura appenninica dell'Età del Bronzo. Entrambi questi periodi possono contribuire a spiegare alcune delle caratteristiche distintive della cultura etrusca. A partire dall'anno 900 Acquistare, durante l'Età del Ferro, si sviluppò la cultura di Villanova, il cui culmine, nell'VIII secolo Acquistare, viene considerato già come etrusco. Coloro che introdussero la cultura di Villanova erano indo-europei, ma non riuscirono a imporre la loro lingua, religione o struttura sociale in Etruria. In molti aspetti, gli etruschi riuscirono a preservare elementi distintivi che successivamente si trasmetterebbero ai romani. Ad esempio, due parole fondamentali nella cultura romana, alla fine di quest'epoca, gli etruschi assimilarono influenze culturali da fenici e greci. Compreso l'alfabeto e lo stile artistico orientale, tra l'VIII e il VI secolo a C inoltre, svilupparono un'arte altamente sofisticata, dando un contributo unico al mondo antico. Tuttavia, l'aspetto più affascinante delle origini degli etruschi è ancora oggetto di dibattito. La questione rimane aperta, poiché le analisi genetiche non hanno fornito prove definitive sulle loro origini. Ciò che risulta più interessante è comprendere come si sia sviluppata la cultura unica degli etruschi, con il suo straordinario livello di raffinatezza artistica. Le notevoli abilità politiche di questo popolo hanno lasciato un segno indelebile, in buona parte ereditato da Roma.